Scoprire le meraviglie del proprio territorio o della città nella quale ci si trova in viaggio, farsi accompagnare da un professionista esperto, capace di comunicare con sensibilità, passione e soprattutto competenza. Per ora resta difficile per le guide turistiche, perché da un anno la pandemia ha fatto cambiare molte cose, a partire dalla mobilità sociale. Siamo praticamente ferme da febbraio del 2020 e nonostante una piccola ripresa a livello turistico che c'è stata nei mesi estivi, in realtà non abbiamo ancora pienamente ricominciato il nostro lavoro. La situazione è tragica, il presente si vive alla giornata. Ovviamente il settore del turismo è stato il più colpito da questa pandemia e continua a essere molto colpito. Servizi annullati, ovviamente l'impossibilità per le persone di venire a Cremona, ma anche all'interno della città organizzare delle visite guidate per gruppi numerosi. Unanime il bilancio tragico di una categoria dimenticata anche in termini di ristori. Il calo del fatturato è stimato per le guide turistiche in una percentuale superiore al 90%, perché c'è stato proprio il crollo degli arrivi turistici, non soltanto i gruppi ma anche gli individuali e poi soprattutto tutta la fetta del mercato straniero che è completamente assente dal gennaio dell'anno scorso. La perdita a livello di servizi di guida turistica è stata di più del 90%. Si può bene immaginare come sia demotivante non riuscire a organizzare un viaggio, l'impossibilità di muoversi, la pericolosità di organizzare gruppi troppo numerosi e moltissimi altri fattori hanno contribuito a mettere in ginocchio il settore turistico e quindi anche di conseguenza l'indotto della città di Cremona. Per far fronte alle nuove esigenze il settore ha dovuto apportare cambiamenti alla propria risicata attività. Ci siamo quindi adeguate alle nuove richieste, che sono quelle di stare all'aria aperta, negli ambienti naturali. Oltre a questo i nostri turisti sono sempre muniti di audioguide e quindi ascoltano attraverso un auricolare monouso le spiegazioni della guida. E all'orizzonte purtroppo le nubi sono ancora fitte. Le prospettive future, stando la situazione in questo modo, sono ancora piuttosto tragiche, piuttosto nere ovviamente. Se non si riuscirà quanto prima a debellare il virus, a ripristinare comunque la possibilità per turisti sia a livello nazionale che internazionale e le scolaresche ovviamente di muoversi, sarà molto difficile riuscire a tornare ai flussi pre-pandemia. Grazie a tutti.